ciao ragazzi benvenuti a watching time oggi parleremo del oris pro pilot x ci tenevo a dare il mio parere ovviamente come come faccio sempre sulla qualità le sensazioni le cose belle che ci dà l'orologio è stato aggiunto la mia collezione ovviamente per cui come sapete di solito sono rare l'occasione in cui faccio vedere un orologio che non è il mio in questo caso era mio però vi racconto un po le storie dietro perché in questo video specifico poi manderò un video un po più focalizzato sulle cose positive perché ce n'è tante oris è un marchio che veramente sta facendo un'evoluzione molto positiva nel mondo dell'orologeria perché ci sta offrendo non solo pezzi unici diversi con un dna diverso con una storia molto lunga e diversa ma anche in pezzi meccanici di grande interesse con i movimenti in house e parlano lo specifico nel calibro 400 che il loro ovviamente meccanismo di punta in house che hanno cominciato a montare negli acquies e che adesso hanno montato per la prima volta nel propilot x in questo caso ero molto emozionato dell'uscita di questo nuovo modello perché riprendeva sicuramente un prezzo molto più contenuto di quello del propilot x escheletrato con 10 giorni di riserva di carica proponeva il modello calibro 400 e 402 perché questo è 402 e 401 era il primo meccanismo calibro 400 che aveva anche quel piccolo errore nello scatto della lancetta dei minuti che alcuni avevano notato in alcune posizioni bene nel 402 hanno sistemato il problema in teoria è un movimento perfetto la punta di diamante della cassa perché ci presentano con un movimento che garantiscono con certificazione cost tutte le caratteristiche cost ma anche e lo garantiscono così tanto che ci danno una garanzia di 10 anni ben 10 anni per qualunque problema e consigliano una manutenzione ogni 10 anni per cui veramente si stanno esponendo a dire guardate ragazzi abbiamo sviluppato un movimento molto ma molto interessante e che vi offriamo a un prezzo comunque contenuto e vi offriamo il massimo dei vantaggi è una posizione molto interessante per un'azienda e si presentano con questo modello loris pro pilot in questo caso con la seconda uscita del meccanismo 402 allora ero molto curioso e contattato subito il mio venditore autorizzato in italia e ho chiesto per il modello nella colorazione grigia non avendole visto dal vivo ancora ho fatto l'ordine non sapevo delle altre colorazioni non sapevo come fossero dal vivo sotto la luce mi era piaciuto molto questo grigio matt e adesso come lo vedete con l'incidenza della luce diventa molto chiaro e in alcune altre incidenze diventa anche molto molto scuro e questo non aveva notato vi devo dire che era un po una pecca perché poi portandolo mi sono preso conto che molte occasioni è molto difficile vedere l'ora proprio per queste caratteristiche ha un lumino va nelle lancette ne parleremo mare un altro video ma anche negli indici con le quantità di lumino va quei puntini che vedete esterni però è un lumino va ovviamente oscuro nero e come sapete bene quando illumino va con la colorazione che viene utilizzata oscura per caricarsi sotto il raggio uv ci mette di più e comunque l'intensità non è così alta e questo lo rende anche poco visibile ancora di più al buio bene comunque modello molto interessante però andiamo al dunque di questo video come potete poi andremo sui dettagli in un altro video ragazzi non è il caso perché sennò starò a parlare mezz'ora movimento il calibro 200 ovviamente 400 slash 2 ovviamente il protagonista una volta che mi arrivai l'orologio come solito mi sono messo a giocare a vedere il movimento mi piace tantissimo apprezzare i movimenti avere ovviamente il movimento aperto è qualcosa che a me piace tantissimo negli orologi e sono già quasi 30 secondi che parlo con il movimento nella telecamera e non so quanti di voi avete notato qualcosa che non va fatto anche delle macro che magari vi farò vedere meglio ovviamente a me mi è buttato subito l'occhio al ponte del bilanciere dove potete vedere quello che sembra a prima vista sembrerebbe una macchia ho pensato che fosse magari sporco il ponte o che fosse grasso con lente di ingrandimento e in macro sembrerebbe che sia in realtà un bel graffio un bel graffio sulla struttura interna del movimento e questo un orologio ovviamente nuovo per cui è qualcosa che non dovreste trovare in un movimento e penso che lo vedete abbastanza bene perché poi a un certo punto diventa anche molto evidente provo fare un po di ingrandimento e qua penso che riuscite a vederlo meglio e sì penso che in questa posizione si riesce a vedere meglio come vedete bellissimo movimento peccato che ai quali ti controlla controlli di qualità non hanno visto quel danno prodotto nel ponte movimento funziona 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 in realtà molto bene occhio non ho riscontrato nessun problema di funzionamento dell'orologio e questa è una cosa sicuramente positiva però allo stesso tempo è qualcosa che non possiamo riscontrare dentro un movimento che poi è il cuore pulsante dell'orologio ed è all'aperto cioè comunque è visibile immediatamente un orologio di questo tipo quando ho cominciato a ragionare ha perso anche valore perché come vai a giustificare se non domani uno non vuole più avere l'orologio nella collezione e decide di venderlo come vai a giustificare che non sei stato te a causare quel danno nel movimento e che non è stato aperto ovviamente questo è un orologio un orologio nuovo arrivato dal rivenditore io non ho aperto ed è questo il motivo per cui ho detto contratto subito il rivenditore e ho detto è il caso che troviamo una soluzione e il problema qual è che i servizi di assistenza di oris a cui potrei aver contattato direttamente sì ovviamente lo prenderebbero subito e ti farebbero una riparazione totalmente gratuita ma in un orologio nuovo che io ho appena pagato perché dovrei aspettare tre quattro mesi per riaverlo riparato su un errore di fabbrica questa è una cosa che mi sembra assurda non lo so perché non sono passato da oris ma questo è almeno quello che mi raccontavano tutti e che sarebbe stato il processo magari processo ideale in questi casi che oris ti invia di immediatamente un orologio nuovo e nell'arco di una settimana ne hai di nuovo a casa l'orologio sostituito con un orologio nuovo e questo faranno quello che gli pare ma non riparato comunque ho preferito valere dalla legge del consumatore in italia contattare il rivenditore e chiedere un cambio del prodotto ovviamente mi è stato fatto il problema era che il mio rivenditore non aveva più la colorazione grigia allora ho dovuto valutare sia quella blu che quella rossa e ho deciso di tenere in considerazione quella rossa perché pensato che fosse più particolare come colorazione e magari migliorava il fattore della visibilità che in questo orologio è molto ma molto difficile di raggiungere comunque una colorazione grigia che pur essendo bella risultava difficile allora ovviamente il mio rivenditore di fiducia mi ha mandato immediatamente una sostituzione che è questo qua colore salmonato che devo dire ragazzi bellissimo ne faremo un video più specifico su questa colorazione è difficile se non lo vedete dal vivo difficile da apprezzare è un colore matt opaco che non è troppo sgargiante è un punto di rosa di di salmone che veramente particolare molto primaverile estivo e si abbina perfettamente con la colorazione del titanio della casa e ovviamente dell'orologio in generale e devo dire che mi sono innamorato subito al vederlo perché comunque è particolare ben visibile luminosa funziona ovviamente molto meglio di quello del grigio e sicuramente si presenta come un orologio molto carino peccato ecco il secondo problema riscontrato che anche su questo orologio ho trovato un problema di controllo di qualità allora in questo caso in questo orologio avevamo visto il graffio nella casa e ritornerà alla casa madre per sicuramente essere sostituito riparato però vi volevo far notare che quando un orologio almeno questo modello nel specifico viene messa la corona in posizione 1 dopo che è stata comunque svitata in automatico ingaggia quella che la posizione di caricamento della molla di riserva di carica per cui c'è di solito un sistema anche di sicurezza che girandolo in senso orario va a caricare la riserva di carica in senso anti orario sgancia la leva degli ingranaggi e non carica niente per cui se vado in senso anti orario non lo sentirete nemmeno non carica si vado in senso orario immediatamente carica e si sente sia all'udito che al tatto come ingrana i diversi meccanismi che portano alla carica vi faccio notare anche come si evince nel movimento vedete qua c'è una piccola levetta che è quella che inesca diciamo il meccanismo di caricamento dell'orologio per cui in senso orario come sto facendo adesso e il meccanismo vedete carica la molla e in senso anti orario vedete si è abbassata la levetta e non ingrana più gli ingranaggi per cui non carica niente in poche parole funziona perfettamente in questo caso se vado in senso anti orario e passo all'improvviso in senso orario subito come avete visto si alza la levetta e ingrana vado anti orario si abbassa orario si alza anti orario si abbassa orario si alza anti orario si passa orario si alza questo giusto ragazzi per farvi vedere come il meccanismo funziona abbastanza bene in questo caso e niente mi è arrivato quello salmone di solito ci mette un secondo ovviamente l'ingranaggio e ho notato subito quando stavo per caricarlo ovviamente prima posizione che questo caso come sentite probabilmente non ha preso l'ingranaggio adesso l'ha preso tolto non lo prende non lo prende non lo prende non lo prende e adesso lo ha preso non è immediato come quello grigio c'è una frazione di giri diciamo che non riesce a ingranare immediatamente il meccanismo di carica e ci mette quei due tre giri della corona in più ve lo faccio notare qua che si vince sicuramente meglio perché sentirlo con l'udito un po difficile in un video adesso si toglie e vedete che non ritorna e sto adesso caricando ragazzi vedete che non ritorna la leva non ritorno e gli ha preso si è tolta anti orario orario in questo caso ha preso subito anti orario orario ha preso anti orario 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 e non prende e lì la presa anti orario anti orario non carica la mola orario non la prende non la prende e lì la prende c'è un rallentamento evidentemente nella nel meccanismo di quando lo ha preso lo prende tipo al secondo giro in cui si innescano magari meccanismi per ingranaggio non so quale sia il motivo non so se è una questione di fabbricazione se ovviamente la mia esperienza limitata due movimenti non so se prendendo un terzo movimento fa lo stesso difetto di questo e allora magari è una cosa anche voluta fra il meccanismo di sicurezza o meno dell'orologio però il fatto sta che mi sembra che c'è qualcosa che non va bene volevo farvi notare questi due problemi diciamo che ho riscontrato negli oris che ritengo che siano un problema perché tirano giù tutto il lavoro e lo sforzo che stanno facendo su un orologio che veramente bello che c'ha tante chicche interessante e che invece vengono a meno su un problema di qualità di quello che il movimento dell'orologio che magari che già aveva avuto problemi perché il 401 ci aveva dei problemi e 402 sembra che si ripropone con dei piccoli problemi è una pena perché un marchio su cui sto tifando tantissimo è un marchio che mi piace tanto come vi dicevo all'inizio del video e dovrebbero migliorare questi problemi immediatamente e non lo so ovviamente questo non è un problema è un problema di controllo di qualità non del movimento problema dell'ingranaggio un po meno bisogna capire se lo fanno più dei due orologi che sono in mio possesso se è una cosa che per loro è normale o se invece è un problema che che magari ho riscontrato solo in quello salmone ed è il caso che più avanti lo mandi a manutenzione o a revisione ma non mi va perché non mi va è illogico che io compro un orologio e poi mi ritrovo senza l'orologio perché deve tornare a cassa madre per fare una manutenzione sono cose che non dovrebbero succedere con un orologio nuovo come non dovrebbe succedere che trova un graffio dentro bene ragazzi soprattutto un movimento di questo calibro di questa dimensione ma che loro si stanno vendendo come la punta di diamante dell'azienda bene ragazzi e spero che vi sia piaciuto questo video e se vi lamentate perché non ho fatto vedere molto l'orologio al polso eccetera non vi preoccupate ne posterò un altro video parlando magari dei dettagli più estetici della bellezza dell'orologio quello che sono le sensazioni che mi dà piuttosto che di quello che mi sono focalizzato oggi che era un problema nel movimento e di controllo di qualità di oris fino al prossimo video un caro saluto a tutti